Geometri di Torino ha deciso di aderire all'iniziativa APVER perché già in anni passati è stato un partner di altri progetti come Abitare Sostenibile e fondamentalmente la categoria crede nella sostenibilità ambientale e tra le attività dei geometri sono comprese prima di tutto un'attività di formazione. Infatti abbiamo diversi progetti in corso con le realtà scolastiche del territorio e supportiamo i colleghi in iniziative di recupero ambientale con risvolti nel sociale e nella sostenibilità.